L'Italia gioca in questo secondo tempo con Peruzzi, Garzia, Garbone, Salvatori, Benedetti, Costa Curta, Buso, Piacentini, Casiraghi, Stroppa e Simone. Buso ha il numero 16. Vi ricordo la formazione jugoslava che in questo secondo tempo in maglia bianca gioca alla destra dei vostri schermi con Lecovic, Bernovic e Jarni, Novak, Jukic, Panadic, Mihalovic, Boban, Savicevic, Prosineschi e Shuker. Shuker è l'autore del gol con cui al diciassettesimo del primo tempo gli jugoslavi sono passati in vantaggio. Il pareggio di Simone al ventiquattresimo su punizione battuta da Stroppa, pericolosa incursione di Savicevic, sventata ora da un recupero di Benedetti. Il cui rinvio viene comunque raccolto da Mihalovic che ancora allarga sulla sinistra dove si inserisce Boban. Boban per Jarni.